Il comune di Teggiano aderisce alla rete delle città marciane. A Castellabate il 12 ottobre del 2019 si costituì l'associazione con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa da parte dei sindaci dei comuni legati al culto di San Marco Evangelista. L'obiettivo che muove i comuni della rete è un progetto di scoperta, recupero e rivitalizzazione di un percorso culturale, religioso e di marketing territoriale che rappresenta l'unione e la comunicazione tra le diverse esperienze delle città che la compongono. Al percorso aderiscono anche parrocchie e comitati festa patronali pro loco. Lo scorso 15 gennaio l'associazione rete delle città marciane ha invitato ufficialmente il comune di Teggiano ad aderirvi e Teggiano ha deliberato l'adesione. L'obiettivo dell'associazione che ad oggi riunisce 22 comuni si legge nella delibera di giunta è quello di promuovere il culto di San Marco e tramite un continuo scambio interistituzionale i territori, le bellezze storico-artistiche, le produzioni enogastronomiche dei comuni aderenti, favorendone lo sviluppo turistico, religioso e culturale. Teggiano ha da sempre un particolare legame e devozione nei confronti di San Marco Evangelista. E per la rete delle città marciane il nuovo anno si apre oltre che con questa ulteriore adesione anche con una visita istituzionale importante presso la Camera dei Deputati, che vedrà coinvolte le municipalità marciane accompagnate dal presidente Marco Rizzo, il secretario Giuseppe Semeraro, sindaci, parroci e ambasciatori della prestigiosa rete. Martedì 23 gennaio incontreranno il presidente della Camera, l'onorevole Lorenzo Fontana, per illustrare gli obiettivi programmatici di breve e lungo termine e le attività da realizzare al fine di incrementare la promozione turistico-culturale di ogni municipalità, legate al nome di San Marco in Italia e all'estero. È un momento istituzionale propedeutico alla realizzazione del ricco programma che vedrà protagoniste le città marciane nei prossimi mesi.